Eurocom edilizia Pedini presso il nuovo showroom di Padule presenta Nuove soluzioni per la tua casa, quello che cerchi per soddisfare le tue esigenze e i tuoi gusti grazie alla collaborazione con aziende importanti come Ceramiche La Falenza, Villeroa & Boc e Friu Parquet Marchi importanti per le tue scelte importanti. Eurocom, la scelta giusta.